Sono ancora in corso indagini sulla morte di Antonino Scifo, l'operaio di 52 anni, residente a Pozzallo, deceduto dopo essere caduto da un cappannone di Marina di Modica, dove stava effettuando una ricognizione. Su disposizione del pubblico ministero Giulia Bisello, il cantiere rimane sequestrato in attesa delle risultanze dei rilievi del medico legale e dei tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, informazioni che saranno sommate a quelle già acquisite dalle forze dell'ordine che subito dopo l'incidente hanno ascoltato alcuni testimoni. L'incidente è avvenuto in contrada Fargione, nella zona asi del comune di Modica. Il cappannone era stato acquisito all'asta di recente da una azienda che opera nel settore dei metalli. La ricognizione, eseguita da Antonino Scifo, doveva servire a verificare le condizioni della struttura prima di renderla operativa. Sull'incidente è avvenuto a Marina di Modica, intervengono anche i sindacati che parlano di ennesima morte bianca e invitano a intensificare i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. La CGL chiede anche al sindaco di Pozzallo di proclamare il cordoglio cittadino. Grazie. Grazie. Grazie.